Oggi è giornata a Lursa, per le prove del Gran Premio. Federica Panicucci, oggi accompagnata dal suo attuale compagno, ha fatto una breve fuga a Monza per godersi il Gran Premio di Formula 1. Dopo aver trascorso una meravigliosa vacanza insieme, la coppia è tornata nella frenetica Milano per riprendere le rispettive attività lavorative e dedicarsi a momenti di svago. La giornalista e conduttrice televisiva sembra trovare il giusto equilibrio, tra il lavoro e il tempo libero, concedendosi piccole pause di relax in compagnia del suo partner.